Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde e come vedete torno con un nuovo video e dopo tantissimo tempo torno con dei nuovi enigmi. Per spiegarlo in 10 secondi a tutte le persone che non hanno idea di cosa io stia parlando, periodicamente ero solito a fare dei video dove proponevo degli enigmi, solitamente 10 enigmi, e sfidavo le persone, sfidavo voi, a risolverli. E in più, al primo che ci riusciva, davo anche un premio. Bene, succederà questo anche questa volta. Da questo momento, infatti, iniziano sul mio sito playbrain.it gli enigmi. Il link esatto ufficiale per accedere a questi link lo trovate in descrizione. Aspettate però, guardate questo video fino alla fine, prima di iniziare. Chiaramente partecipare è completamente gratuito, non ve lo sto neanche a dire. Quando cliccherete il link, entrerete sul sito e vi verrà chiesto di iscrivervi, se non siete già iscritti. Questo serve a me per monitorare effettivamente chi sta andando avanti negli enigmi e soprattutto alla fine decretare un vincitore. E in più, per partecipare dovete essere iscritti al mio canale, quindi se non lo siete ci mettete proprio un secondo. Una volta iscritti, potete iniziare a partecipare agli enigmi. Saranno 10, di difficoltà più o meno crescente, e in ogni enigma ci sarà una casella di testo dove voi dovrete mettere la risposta che credete sia corretta e premere invio. Dopo aver cliccato di non essere dei robot, devo per forza metterlo come sistema di sicurezza, altrimenti la gente usa i programmi che generano l'infinito parole e chiaramente vincono subito. Se la risposta è corretta, passerete all'enigma dopo, se la risposta è sbagliata, rimarrete lì e potrete riprovare ovviamente all'infinito. Vi dico già che le risposte potrebbero essere di senso compiuto o non, quindi non necessariamente la risposta è una parola che abbia senso. E soprattutto, se la risposta è composta da due parole, non bisogna mettere spazi. Quindi se tipo è ti voglio bene la risposta, non dovete scrivere ti spazio voglio spazio bene, ma tutto attaccato ti voglio bene. Ed è indifferente se usate maiuscole o minuscole. Potete sia scrivere in maiuscolo che in minuscolo, che un po' è un po' è indifferente, basta che le lettere o i numeri siano quelli giusti. Avete tempo fino a martedì alle 14, quindi esattamente tre giorni, 72 ore. Ogni giorno sotto questo video fino a martedì alle 14 io lascerò un indizio aggiuntivo se vedo che molti di voi sono bloccati a uno stesso enigma. Un po' dopo la fine degli enigmi uscirà un video con le soluzioni e dove dirò chi è il vincitore. Il primo infatti che riesce a completare correttamente tutti e dieci gli enigmi vincerà anche un premio e ovviamente la gloria per aver finito tutti gli enigmi. Ho deciso di regalare al vincitore il mio cubo Triscube, se vuole anche con la scatola autografata, e in più un mio NFT, che è una cosa un po' particolare. Se dovesse già avere Triscube, dovesse già avere un NFT, troveremo insieme un accordo per un altro premio. Bene, non ho nient'altro da aggiungere se non farvi un in bocca al lupo. Potete cliccare il link in descrizione per partire e mi raccomando divertitevi. Ci vediamo domani con un suggerimento, se dovesse servire, oppure martedì con le soluzioni e il vincitore.